bentornati a colazione coi bradipi oggi torniamo a disegnare però con una piccola variante avremo tre minuti e mezzo per disegnare sempre con gli occhi vendati sempre però anche l'ultima volta che abbiamo disegnato però i soggetti del disegno non saremo noi per quello abbiamo la nostra scatola del mistero con dentro tutti i vari foglietti terri sì esatto ci sono cose c'è di tutto qua dentro quindi ci sono cose più difficili da disegnare più facili da disegnare comunque sempre ben dati e l'obiettivo è far riconoscere far riconoscere far capire all'altro l'altro di sé esatto che cosa abbiamo disegnato per più veloce possibile Tama sei pronto da là vicino il tempo parte adesso ok questo faccio in uno squadro ok prossimo 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 buttare le terre così non c'è rischio che li vedo se sono dicono che va lì ma chi se ne pega? Tanto te lo vieni i cogli vieni ma vai te? ma guarda ehm ah ok no ehm noo Ma tu la passi? Si, ok Ok, proviamo con la versione più difficile da capire, ma forse anche da più Cosa è successo? Cosa? Eh, una... Ah, la sirena? Si Ok Dai Si, facile Comodo Che anzi Passo Cioè, ecco È passato? No No dai, provaci almeno Farò un... Oh, minuto e quaranta Vai, 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 corri Corri Dai, non ti intanto Eh, ma non so come faccio Eh, 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 eh Un minuto! Fuori questa qua. Tutte e due. Oppure. E poi? Ah, facciamo una sezione. Un fagiolo. Dai! Cosa c'è? È un kiwi! Ah, ok. È identico! Sì, certo. 20 secondi! Una foglia, no, una piuma. Ok. 10? No! Un fucile! No! Eh, la madame... Ok, no, doveva essere un ponte, stavo cercando di definire un carretto, ma non... Spero che non si sia mossa troppo la lava. Il do del kiwi, uno dietro. Va bene. E ora passiamo al turno di... Cianciaco! Resettiamo il timer. Come si è lasciata così? Tanto facile! Eh! Pronto? No! Ok! 3, 2, 1 e un quarto, mezzo... Via! Eh... Ah, già che io devo guardare! Sì, ah, già! La carta punta! Ok! Comunque non è stato che bisogna ne hai! Sì, tra l'altro c'è anche il tuo avalancio in mezzo, perché... Non so cosa dire! Diventa mancino! Ah, sì sì! No, 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 no! Eh... No, no, no! E' un cammello! No! No, non mi ricordo ancora di film! Non mi ricordo ancora di due le cose! Cioè, invece, tutti i due racconto Ah, una batteria! Due minuti e mezzo Alla fine vincere la Giangia, come Giangia pare Un testio Esatto Com'è fatto a capire? Perché ho pensato, mi è venuto in mente Com'è che si chiama? Quello di Super Mario Ma io sono facili Non gli è capitato Nel Kiwi, nel Dodo Kinder Certo? No Ecco adesso che ho detto che sono facili Una barcavela? No, come una barcavela Andiamo avanti Una spada Abbiamo detto Ma chi vince ha il diritto di chiamarsi il disegnatore più meglio Ah, sì sì Ah, un primitivo Un... Che critico Cioè, sembrava un... Vabbè, meglio che non... Però non disegniamo alle occhi chiusi Sembrava una donna col tutu all'inizio Questo non lo catticai mai Questo non lo catticai mai Ehm... Ehm... Un Dorian No Ehm... Una Mazza Ferrara Un Mazza Frustri No, certo Un collare Cioè, ci mancava la parte dove c'era il colpo C'era il colpo Ehm... Nooo 45 secondi Nooo Ehm... Il coso di sì No, è come il kiwi questo Nalce Nalce Andiamo avanti Era il palco Nalce tecnicamente Sì, però Dovevi dire Ehm... Poi Ehm... Ah, quello sotto era il palco Quello sotto era il palco No comment Una bo... Un trichieco Oh, sì Guarda Non vedo metà disegno Io... Eh, beh, no Torniamo prima che... Prima che sia trapposato Faccio trovare l'edificio Eh, direi che ho vinto Gian Giacomo Non so per quanto Diciamo che ero più brava a indovinare Eh, ecco Chissà Ma gli avrei fatto No Sì, sì, certo Ok, la pipa non era proprio il massimo Però gli altri si potevano capire Sì, soprattutto il kiwi e il fagiolo Era un kiwi Due kiwi Perché ci hai messo il cosino nero Di fianco? Eh, come fa... Come fa ton kiwi? C'è il coso... La buccia Il verde E cos'è... Cos'è quel coso centrale? È il piano! Ma già, non riuscivo a capire Pensavo uova tipo Qualcosa del genere Uova E quello sopra cos'è? Vabbè Comunque Ah, se quello di quello doveva essere un dodo? Sì, è un bel lontano Insomma, il dodo... Tu hai la rivincita? No Sì, è stato traumatico Comunque Ti manca un gomito Se nemmeno Guarda tu Ok, con lo so è questa vita Ti tira, ci serve questa tua pelle Però, va bene Comunque sì, non è che abbiamo un tela Proprio Ah, ce ne erano, eh Cosa c'è? Niente Fammi vedere Dove ti sei sporca? Comunico Non è che non è sporca, piccicatina Eh, va bene Ti parliamo di Lincoln Era in... Imbeccabile Ah, grazie Con gli occhi per... Dai Gangs of New York Che ne so io che ci avrò a Monícon Comunque Dettagli L'episodio è finito qui Gian Giacomo Poi Se lo incontrate Potete lì Giotto Esatto Dovete chiamarlo Facciamo anche no Va bene Lo stesso Il maestro Il sommo maestro Il disegnatore E niente Mi piace Quando vi desce La vita nostra Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Mi piace La sua picchiera Gian Giacomo Comunque Noi ci vediamo L'unica prossima